Anticipazioni Tempesta d'amore, mercoledì 22 maggio 2019 Annabelle e Denise fanno di tutto per aiutare Joshua che si ritrova in gravissime difficoltà. La buona Salfield si rende conto, ogni giorno di più, che il Winter è la sua anima gemella, il ragazzo con cui formerebbe addirittura una famiglia. Purtroppo lo zampino della sorella non fa che scoraggiare anche il minimo riavvicinamento tra i due. Dopo quello che è successo nel bosco, tra Werner e Joshua, la situazione in casa Salfield cambia radicalmente. Il vecchio albergatore è pronto ad accogliere il ragazzo nella sua grande famiglia. Tina intanto soffre a causa di Robert e non sa come liberarsi dal suo costante pensiero. Grazie.